segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tutto quanto a non finire sotto il tram che c'hai dietro vista io bello suono ce l'ho lì e lì dappertutto e lì dappertutto ci mancherà ci mancherà ad un paese che questo momento ha bisogno di essere forte di essere forte unità che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di berlusconi il mondo vicino e lontano da noi ha perso una persona amata gentile intelligente io l'ho voluto siamo voluti bene sempre qual è l'eredità più grande che lascia l'amore e la fedeltà ad un simbolo che porta civiltà aiuto per le persone più deboli e le persone malate questo lo voleva fare mantenere e difendere il paese che lui sognava allora paolo